ciao valteri come stai bene te sono mancato insomma te sono mancato dai senti po non parlamo d'amianto non parlamo d'acqua del bordo evitamoli sti discorsi che è un periodaccio senti parlamo de musica e dai parlamo de musica va so che il 28 novembre c'è un concerto in programma un bellissimo concerto fatto suona la banda della marina militare al parco della musica a roma è vero sì e se ti po dimmi un po una cosa valteri ma è vero che sono stati precettati 700 militari per riempire la sala per far vedere che comunque è piena no perché se è così a me mi viene un dubbio ma sta gente che sta viene lì gratissetta amore precettata oppure viene lì precettata in straordinario quindi ovviamente attività di servizio fuori del normale orario di lavoro no perché se è così so un sacco di soldi so 700 persone mettevo una media di 15 euro a testa ora so 42 mila euro più o meno euro più euro meno so un sacco di soldi ma non si possono evitare sti sprechi no capisco magari per un'esercitazione per un'attività di soccorso in mare ben vengano so soldi spesi bene per addistrare il personale ma per un concerto per far vedere che la sala è piena ma non si possono evitare no eh no dai siamo ancora in tempo su evitamoli ministro 30 ma eviti quanti quanti soldi ci stanno da risparmiare tu pensa a eliminare tutte ste cose no tutti sti eventi ma sai quanti soldi si recuperano 40 di qua 40 di là 10 di sopra 10 di sotto ecco là che se andiamo a vedere bene nelle pieghe del bilancio qualche centinaio di milioni d'euro lo tirammo fuori de ste cose no eh sì dai forza basta poco per cercarli comunque allora valteri personale solo volontario nessuno precettato perché sennò ce costano e sinceramente a me contribuente danno a pagare un militare ma andasse a vedere un concerto e quindi dei pagagli agli straordinari ma sinceramente proprio non mi fa ma come non va a me ma darebbe fastidio a chiunque no cioè perché cosa ma perché se uno vuole andarci ci fa se non ci vuole andare non ci fa mica è obbligato e chi l'ha ordinato il dottore di andare al concerto no e manco l'ammiraglio lo può ordinare soprattutto se pago io cittadino ciao valteri ciao lisabe pace a tutte e due vi voglio bene ciao